Lunedì 18 dicembre si è svolta in orario notturno un'esercitazione con simulazione di incendio nella galleria Serraspiga a Rende, in provincia di Cosenza. L'esercitazione rientra nell'ambito delle attività previste dal decreto legislativo 264 del 2006 per la sicurezza dell'utenza stradale lungo le gallerie della rete transeuropea. Le attività hanno riguardato una simulazione di potenziale pericolo all'interno della galleria a seguito di un evento incidentale di particolare gravità per testare l'efficienza degli impianti tecnologici di sicurezza a servizio della galleria, le modalità previste dal piano di emergenza e i conseguenti tempi di intervento. Il fine è quello di acquisire elementi utili al miglioramento della pianificazione in caso di incidenti in galleria e ottimizzare le capacità operative e organizzative di coordinamento interforze. Gli esiti dell'esercitazione inoltre consentiranno di effettuare delle analisi sull'accaduto che daranno luogo a un aggiornamento del piano gestione emergenza. Grazie a tutti!